Sono stati tre giorni intensi per il Museo Civico di Sansepolcro. La Pasqua ha valorizzato in modo importante il museo che custodisce la resurrezione di Piero della Francesca, ma anche la mostra allestita all'interno, Piero ha lasciato la luce accesa. Alessandrini, Baragli, Camaiti e le arti del Borgo, illuminate da Piero della Francesca, pittura, danza, musica, ha fatto dunque da traino. Sabato 16 aprile si sono registrati 273 visitatori. La giornata di domenica di Pasqua 224 visitatori, ieri Pasquetta 265. Ricordiamo che la mostra dedicata agli artisti Alessandrini, Baragli, Camaiti, dal titolo Piero ha lasciato la luce accesa, rimarrà aperta fino al prossimo 29 maggio, con orario 9.30.13.14.30.19. Il biglietto d'ingresso al museo e alla mostra è unico, 10 euro, ridotto 8 euro, ridotto speciale 4 euro. Tutte le informazioni nel sito www.museocivicosansepolcro.it www.museocivicosansepolcro.it